Bella raga e benvenuti nel video di presentazione di Dialoghi. Dialoghi è un podcast che io ho in testa da anni, è un posto un po' mio, è la mia comfort zone. Io sono nato nel mondo del giornalismo, faccio questo mestiere, mi occupo di comunicazione dopo 5-6 anni di lavoro solo ed esclusivamente nel mondo del giornalismo. Ho lavorato nel mondo del giornalismo a 360 gradi, quindi mi sono occupato di cronaca, di sport, di interviste. E questo progetto di Dialoghi in realtà lo studio e ce l'ho dentro da davvero tanto tempo. Dialoghi sarà un podcast dove porteremo, porterò ospiti a 360 gradi, quindi ospiti di qualsiasi settore che però abbiano fatto la differenza nel loro settore, oppure persone che magari nella vita facevano tutt'altro e poi un giorno hanno deciso di cambiare completamente vita e mettersi appunto a fare la differenza o fare la storia nel loro settore. Non aspettatevi un format troppo family friendly. Io essendo nato e cresciuto nel mondo del giornalismo sarò anche un po' piccante, nel senso che non sarò il classico conduttore podcast che lascia solo parlare l'ospite, ma si creerà anche un po' di dibattito, un po' di debate dove si andrà a chiacchierare e a vedere diversi punti di vista con l'ospite. Dialoghi porterà ospiti ovviamente, come abbiamo detto anche nel video introduttivo generale, porterà ospiti di diverso tipo, ma mai ballerini e mai sportivi. In Dialoghi non vedrete mai uno sportivo e non vedrete mai un ballerino, ma semplicemente perché quelle due categorie hanno il loro spazio negli altri nostri format. Per farvi qualche spoiler, stiamo costruendo appunto la stagione. Abbiamo già alcune puntate assicurate, altre le stiamo costruendo. Avremo, come dicevamo nel video introduttivo, politici di livello nazionale, ma anche non di livello nazionale. Avremo dei musicisti, avremo degli chef, avremo degli imprenditori, avremo probabilmente un fotografo di livello nazionale. Sarà un format dove andremo a parlare di X argomenti, ma con un unico filo conduttore. Come si diventa qualcuno che fa la differenza nel proprio settore? E qual è il mindset per diventare qualcuno che fa la differenza nel proprio settore? E soprattutto qual è il modo per arrivare a fare la differenza? E quindi molto spesso essere molto critici e dire quello che si pensa. Non essere troppo family friendly, perché diciamocela tutta, essere troppo politicamente corretti, essere troppo genuini e gentili, poi in determinati settori diventa scomodo. L'ho detta pulita per non essere troppo diretto. Dialoghi sarà un luogo dove chiacchiereremo, chiacchiereremo tanto e di tanti argomenti. È ovvio, come probabilmente vi ha anche detto Federico nel video introduttivo di Palabras, con alcuni ospiti andremo un po' più nel tecnico, andremo un po' più nello specifico. Faccio un esempio, se ci sarà al fotografo ovviamente andremo magari un pochino più nello specifico, ma perché io sono nato lì, se arriverà al politico magari andremo un po' più nello specifico di quello che è la vita che fa un politico. Però quello che ci interesserà sarà ripercorrere la vita di queste persone, capire quando hanno iniziato a dirsi io voglio fare quello nella vita e cosa ha comportato fare quello nella vita. Perché vi assicuro che, ad esempio, fare il politico non è solo prendere un sacco di soldi di stipendio, ma è anche fare tutta una serie di rinunce che probabilmente l'ospite che verrà qua ci racconterà. Non voglio togliere niente dalla bocca degli altri, quindi l'unica cosa che vi chiedo è iscrivetevi al canale, sarà un format secondo noi divertente, sarà un format con tanti spunti, sarà un format con tanti punti di vista che vi faranno riflettere, vi faranno pensare e poi chissà sarà un format che magari un giorno, io questo lo dico, poi magari me lo tagliano in montaggio, ma sarà un format che, come da mio pensiero e da mia speranza, prima o poi uscirà anche da queste quattro mura e vi darà la possibilità di vederlo in maniera diversa. Quindi iscrivetevi al canale, seguiteci sui profili social e iniziamo a dialogare.